Siamo a Nule e naturalmente a Nule non si può non parlare di artigianato. Artigianato in particolare per quanto riguarda i tappeti e i ricami. Qui con noi c'è la signora Giovanna. Buongiorno signora. Buongiorno. Allora, lei sta realizzando un ricamo. Che tipo di ricamo è? Questo è il punto palestina. E poi è difficile da realizzare? No, praticamente è una cosa che bisogna imparare, va bene, però non è difficile. E da quanti anni ricama? Ho iniziato che avevo appena 10 anni. Caspita, quindi non facciamo i calcoli che non è galante, però diciamo che questa è una cosa che si insegna anche a tutte le bambine. Sì, esatto. Se lo vogliono, purtroppo adesso le ragazze non hanno intenzione di imparare certe cose. Invece a noi le mamme ci dicevano sempre, impara sarte e pone la parte. Bene, grazie signora Giovanna. Adesso io la saluto mentre lei continua a ricamare. Grazie. Grazie a tutti.